Il sole è questo, l'hater è la punta di questo gesso. Nella fisica einsteiniana, cioè nella relatività, queste grandezze fisiche diventano un oggetto. Einstein non parla più di spazio e tempo. Einstein parla di spazio-tempo. Un oggetto che si deforma alla presenza di grandi masse. Tu c'hai una tela dritta, dritta, bella dritta, tosta. Lanci una biglia, che fa? Avanti e continua. Se invece questa tela tu la deformi, gli metti un assorto di coso che la deforma, quindi la tela da dritta diventa deformata. Se tu lanci sta palla, che fa? Curva. Curva. Il sole è questo, l'hater è la punta di questo gesso. Quindi il sole ha voglia che lo deforma allo spazio-tempo. La terra si muove dritta in uno spazio-tempo deformato.